E' terminata con la beffa finale la trasferta della San Cataldese nel salotto della Real Casalnuovo, valida per l'anticipo della 32esima giornata del girone I di Serie D. Il risultato al triplice fischio ha premiato i padroni di casa a medito della rete di Ruggiero nel primo minuto di recupero, che ha vidimato il 2-1 a favore della formazione campana. In una partita caratterizzata dal ritmo elevato è stato il gol di Bucchicchio a spezzare l'equilibrio iniziale intorno alla mezz'ora di gioco. San Cataldese che è stata capace di rimanere in partita, tanto da riprendere meritatamente l'avversario con la rete di Darmash che al minuto 87 ha siglato il pareggio. La gioia, sette minuti dal novantesimo, ha illuso il sodalizio verdamaranto di portare fino al termine la contesa. La vellità della formazione siciliana non ha fatto i conti con l'animus pugnandi della Real Casalnovo, che al novantunesimo minuto con Ruggiero ha sancito il punto esclamativo dello stadio Iorio. Una vittoria che consenta alla squadra del tecnico esposito di consolidare la zona play-off, mentre in casa San Cataldese una battuta d'arresto che non permette di muovere la classifica a causa di una sconfitta alla vigilia prevedibile, ma dal retrogusto amaro per come è maturata, soprattutto in virtù della vittoria del Portici nel campo della Gioiese, che ha pericolosamente dimezzato la distanza dalla zona play-out a tre punti. Questo il 32esimo turno e i risultati del girone I di Serie D. La classifica vede il Trapani primo a 78 punti, seguito dal Siracusa 68, Vibonese 63, Fenicia Marantone, Santorreggio 49, Real Casalnovo 47, Città di Sant'Agata 44, Ragusa e Città di Acireale 43 punti, Canicattì-Agragas-Igevirtus 38, Licata 34, San Cataldese 33, Portici 30 punti, Locri e San Luca 25, Castrovillari 13, chiude Fanalino di Coda-Gioiese a 7 punti.